Cominciamo con una domanda facile. Quali concetti trascina con sé la centralità della categoria dell'esistenza in Kierkegaard? Secondo Kierkegaard l'esistenza non è un'entità necessaria e garantita ma un insieme di possibilità che obbligano l'uomo ad una scelta e che implicano un componente inevitabile di rischio. Risposta esatta. D'altra parte era facile eh? Scelto da casa è più facile. Senti, posso avere un aiuto? Ovviamente no. Ma se facciamo metà e metà?